Molfetta e Giovinazzo si preparano a vivere la dodicesima edizione della Notte Bianca della Poesia. Marilena Farinola. Alvia questa sera la Notte Bianca della Poesia. La Kermes letteraria, giunta alla sua dodicesima edizione, anche quest'anno si freggia della presenza di numerose associazioni e dei movimenti di poesia del territorio, volte a valorizzare il patrimonio letterario-artistico e culturale della Puglia. La manifestazione, organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, presieduta da Nicola De Matteo sotto la direzione artistica di Gianni Antonio Palumbo e la collaborazione del poeta Vito Davoli, si apre questa sera a Molfetta all'Auditorium Madonna della Rosa e si chiuderà domani nel Centro Storico di Giovinazzo Teatri degli Incontri di Poesia. Abbiamo aperto chiese, abbiamo aperto chiese antiche con grandissimi affreschi. La possibilità che daremo agli ospiti che verranno da diverse parti d'Italia di avere un senso alto della poesia. Devo ringraziare a nome dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo il nostro direttore artistico Gianni Antonio Palumbo e devo ringraziare anche Vito Davoli che ci ha dato la possibilità di far venire qui in Puglia per la prima volta Beppe Costa che è stato un amico, fraterno e anche l'editore di Dario Bellezza e di Pierpaolo Pasolini. Per cui una voce alta della poesia che darà la possibilità a tutti di godere di questa bellissima notte bianca della poesia. Numerosi musicisti, gli attori, le danzatrici che si esibiranno negli spazi allestiti da suggestive esposizioni di pittura e fotografia. Ospite d'onore dell'edizione 2022 sarà il poeta e scrittore Beppe Costa insieme alla voce recitante di Elisa Barucchieri. E questo è un semplice messaggio, velocissimo per dire quanto sono entusiasta di partecipare di nuovo alla Notte Bianca della Poesia che seguo e compartecipo e contribuisco fin dalla prima edizione e quest'anno per me il grande onore di leggere le poesie magnifiche, emozionanti, profonde di Beppe Costa è un dono e spero di poterlo portare a voi. Vi aspettiamo!